Un cordiale saluto da Alex Guarini di Trebi Meteo. Nel corso di venerdì insisterà l'azione di una circolazione di bassa pressione sul comparto centro-meridionale dell'Europa che proseguirà a far affluire nuove perturbazioni di origine atlantica. Per quanto riguarda le temperature non sono attese particolari variazioni su gran parte del continente con clima tipicamente invernale tra Scandinavia e Russia. Sull'Italia il cielo sarà in gran parte sereno e poco nuvoloso soltanto sulle nostre regioni nord-occidentali e quelle del medio-alto versante tirrenico mentre una maggiore nuvolosità insisterà sul resto della penisola con piogge ed acquazzoni. Le temperature rimarranno stazionarie sia nei valori minimi che nei massimi che saranno piuttosto miti al pomeriggio con punte fino a 15-16 gradi su Valpadana e regioni tirreniche. A nord come dicevo poc'anzi avremo bel tempo prevalente sui versanti di Ponente con ampie schiarite mentre una maggiore nuvolosità insisterà al nord-est con deboli precipitazioni tra Romagna ed alte marche. Al centro il tempo sarà più instabile con piogge e rovesci soprattutto al pomeriggio ma anche nevicate lungo la dorsale appenninica a partire dai 1200-1400 metri tempo un po' più asciutto soltanto sul versante tirrenico. E infine al sud marcata instabilità con piogge e acquazzoni intermittenti a tratti anche temporaleschi ed anche il rischio di nevicate sui rilevi calabro-lucani intorno ai 1400 metri. I rovesci diffusi interesseranno anche la Sicilia ed a tratti anche la Sardegna orientale. Con questo è tutto vi aspetto per aggiornamenti